L'integrato, inclusivo ed efficiente è il nuovo punto unico di accesso socio-sanitario PUA, inaugurato a Mondavio all'interno della sede del distretto sanitario, uno sportello multifunzionale che fungerà sia come punto di ascolto dei bisogni delle persone più fragili, sia da luogo privilegiato in cui verranno rilasciate informazioni in merito alle diverse opportunità per la cura della persona, un servizio che favorisce dunque l'integrazione sociale e sanitaria con un'attenzione a tutte le persone fragili che necessitano di un'assistenza personalizzata. Nel nuovo centro i cittadini troveranno un infermiere e un assistente sociale pronti ad ascoltare le loro richieste che siano assegni di cura, servizio di assistenza domiciliare, contributi per la disabilità gravissima ma anche quelli inerenti alle dimissioni da strutture ospedaliere e inserimenti in strutture residenziali e diurne. È in questa direzione che prosegue l'impegno dell'ambito territoriale e sociale 6 nell'implementare i servizi di ascolto avviato attraverso l'individuazione degli uffici di promozione sociale nei nove comuni di riferimento. Comune di Mondavio, Terraro Veresche, Orciano ed è un servizio praticamente che intanto partiamo con due volte alla settimana rivolto praticamente a tutti i cittadini che hanno bisogni, bisogni che possono essere di qualsiasi tipo, sanitari, sociali, sociosanitari. Un'attenzione particolare serve per quelle problematiche che hanno bisogno di una integrazione maggiore. Oggi partiamo con Mondavio, proseguiremo ad agosto con Mondolfo, con la repertura del Pua di Mondolfo e anche più là con il Pua di Pergola. Un bisogno che non è solo sociale, che non è solo sanitario. Pensiamo a tutto il tema degli anziani non autosufficienti dove spesso proprio la richiesta che viene dalle persone e dalle famiglie è di fornire al tempo stesso una risposta di socializzazione, di sollievo per le famiglie ma anche di natura infermieristica, quindi di risposte che sono più di natura prettamente sanitaria. In questo luogo che oggi noi inauguriamo avremo una risposta integrata a questo tipo di bisogno perché troveremo la presenza contemporanea dell'assistente sociale dell'ambito per due giorni alla settimana e dell'infermiere messo a disposizione dal distretto. Quindi davvero una forte integrazione di figure professionali perché c'è un tema di forte integrazione sui servizi. Ricordiamo gli orari di apertura? Il lunedì mattina dalle 9 fino alle 14 e poi il giovedì pomeriggio dalle 15 alle 18. Da diverso tempo che si sta lavorando a livello di ambito per l'attivazione di questo nuovo sportello, è il primo di quattro che verrà attivato a livello di ambito, quindi siamo orgogliosi di essere il primo punto.